Naria Schiavi, ci troviamo in uno dei punti più panoramici della Bossico Ceratello. I lavori ormai sono giunti al termine. Siamo addirittura d'arrivo. Siamo soddisfatti davvero perché questa è un'opera che ha tanti anni di storia, anche tribolata, e la soddisfazione di vederla ultimata è davvero grande. La nostra amministrazione, l'amministrazione di Bossico, insieme all'amministrazione di Costa Volpino, ci ha messo veramente tutto quello che poteva, sia in termini di impegno, sia in termini economici, e grazie al contributo di Regione Lombardia siamo riusciti a terminare quest'opera che altrimenti avrebbe rischiato davvero di rimanere incompiuta. Un'opera attesa da molti anni. Sì, la storia di questa strada è molto travagliata. È una strada che collega Ceratello, frazione di Costa Volpino e Bossico, ma che per il 90% insiste sul territorio del Comune di Lovere. E questo negli anni ha comportato una serie di problematiche, anche amministrative, a Lovere. La storia inizia negli anni 80, quando la strada era finanziata, ma poi a Lovere c'è stata una crisi di giunta, è caduto il sindaco, e da lì poi è sempre stato un problema riprendere il discorso, finché poi nei primi anni del 2000, grazie anche alla comunità montana, si è riusciti a trovare un accordo e si è partiti con i lavori. Questo è un intervento sul quale c'è parecchio da dire anche per quanto riguarda le scelte che sono state prese. Sicuramente c'è stata molta attenzione per l'aspetto ambientale. I progettisti sono stati davvero bravi a trovare delle soluzioni a livello compatibili per la salvaguarda dell'ambiente. Ci sono una serie di accorgimenti, rivestimenti dei muri nelle zone in cui i muri sono più alti, oppure un effetto cannucciato che consente di mitigare l'impatto del cemento. Poi grande attenzione anche per le barriere e i garreli che sono tutti in corten e quindi risultano assolutamente ben inseriti nell'ambiente. Il fondo, come dicevo, è frutto anche del compromesso stipulato con il Comune di Lovre, quindi era chiaro che non poteva essere asfaltata, però si è trovata una soluzione con uno spaccato che è molto compatto e quindi credo che garantirà la percorribilità della strada al meglio. Ci sono anche dei punti dove è possibile fermarsi per ammirare anche non solo il paesaggio? Esatto, c'è stata anche una particolare attenzione all'aspetto turistico. Sono stati realizzati dei punti o panoramici oppure una passerella che consente di immergersi nel bosco all'altezza di un castagno secolare e è stata anche prevista una fontanella per il ristoro dei pedoni e dei ciclisti di passaggio. Un intervento comunque anche costoso? Sicuramente è stato anche a livello economico molto impegnativo. È stato possibile realizzarlo grazie al contributo di Regione Lombardia che ha coperto circa metà dell'intera opera e la restante parte, per arrivare a 1.350.000 euro, è stata messa dai comuni di Bossico e di Costa Volpino. Non è stato facile perché il Comune di Bossico è un comune piccolo che ha difficoltà a trovare risorse economiche anche perché non è stato possibile fare mutui per le restrizioni normative. Il Comune di Costa Volpino che magari ha un po' più di liquidità ha il problema del patto di stabilità e quindi aveva i soldi ma faceva fatica a spenderli. Però grazie all'impegno di tutti siamo riusciti anche a risolvere queste problematiche e a finanziare interamente l'opera. Quando la fine definitiva dei lavori? È questione veramente di giorni e dopodiché ragioneremo sull'inaugurazione che sarà a primavera e anche sulla regolamentazione del transito ovviamente in accordo con Costa Volpino.